La nostra destra fanno parte del Dubai Volk, il centro commerciale che abbiamo visto un pochettino passando quando ci siamo a Milati Vers Burj Khalifa. Quello che vedete, per esempio, questo qua giallo, fa sempre parte del centro commerciale, ma sono degli appartamenti, è un appart hotel, quindi ci sono delle case. Quindi questa zona è una zona mista, sia una zona residenziale, ma è anche una zona di attività commerciali, come quella del centro commerciale. Come avevo detto prima, vedete che sopra questi palazzi, la maggior parte di quest'area è stata sviluppata dall'Emar, che è questa azienda che fa sempre capo alla famiglia reale. Nella realtà sono due aziende, c'è l'Emar che si fanno l'altro palazzo, poi c'è Miras, che è sentita più che altro da Faza, ma anche il figlio del Sheikh Mohammed, dove fanno più che altro delle cose come il The Point, che in questo momento abbiamo fatto alla Palma. Quindi sono più utili di centri commerciali, sulla spiaggia più attività di questo vino. E Treman sviluppa prevalentemente delle case e degli hotel, che fanno parte della catena Atres, quindi appartengono sempre allo stesso gruppo. Ma avete le discussioni nel tesero? Sì, sì. E tu da Milano, in quella c'è, non ho notato. Ma poi tu la potete prenotare, eh, dunque. Eh, abbiamo già prenotato. Noi pure un abbraccio a quale.